Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Buongiorno dalla redazione per personale su strada per lavori tra centro intermodale est e l'allacciamento per la Fipili in direzione Livorno. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero tratto chiuso a causa di caduta massi all'altezza di Giardinetto nel comune di Bagni di Lucca, viabilità deviata sul posto e senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Buongiorno da Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!